Strappati i manifesti elettorali a Battipaglia, subite l'atto che sembra essere di natura intimidatoria, il candidato all'Europarlamento compie Europa, il battipagliese Raffaello Adesso. Tramite il suo mandatario ha sporto denunce ai carabinieri della compagnia di Battipaglia, dopo che i suoi manifesti, 200, sono stati brutalmente rotti dagli appositi spazi consentiti dal Comune. Questo potrebbe essere l'inizio della cosiddetta guerra degli attacchini, oppure come uno sgradevole segnale di sciagallaggio, che di certo non fermerà la corsa del candidato alle europee.